Ciao a tutti amici, bentrovati in questo nuovissimo video. Ci inoltriamo ancora una volta nel Grande Fratello Vip perché c'è uno scontro senza esclusione di colpi e noi non possiamo perderci queste cose. Tra chi? Tra Attilio Romita e una concorrente che è stata attaccata duramente nel corso della diretta con Alfonso Signorini del giorno 19 dicembre. Dichiarazioni che non hanno bisogno di spiegazioni alcuna, visto che lui è stato molto chiaro. E con lei che ha ascoltato queste durissime parole del giornalista non è però rimasta in silenzio e ha risposto con molta energia. Questa settimana natalizia, quindi, cari amici, si preannuncia comunque ancora molto incandescente sotto tanti punti di vista. Al Grande Fratello, Attilio Romita, quindi esordito così nel suo attacco contro la concorrente, dicendo «Per me lei è una pazza, ha il sangue che non le arriva proprio al cervello». E queste sono parole, insomma, è un attacco, sì, sono parole forti, diciamo, no? Che hanno trovato la risposta della donna, la quale ha preferito ironizzare per poter controbattere, dicendo «Eh, lo so, quando si raggiunge una certa età manca il sangue al cervello, e pure a lui non è che funzioni benissimo». Ma poi Attilio è passato alle accuse, riferendo un episodio negativo relativo alla coinquilina. Durante questo confronto, chiesto da Alfonso Signorini, Attilio non ci è andato giù, leggero, e ha detto «Tutti quanti qui abbiamo detto delle sciocchezze che non stanno né in cielo né in terra, e poi Charlie, ad esempio, mi dice che non ho più niente da dire e che me ne dovrei andare da questa casa. Comunque, tornando a lei, c'è un'altra cosa strana. Ha detto delle cose ignobili contro due ragazze per bene, e si preoccupa di farmi le pulci a una mia scivolata. Ma si può fare. Le chiesi aiuto quando ero sotto due treni, mi aveva detto di non preoccuparmi perché lei era al mio fianco, e poi che fa? Parla così». Quindi Attilio Romita non ha per niente gradito il comportamento tenuto da Vilma Goic, proprio lei, che a suo modo di dire inizialmente si è offerta come sua amica e poi invece lo ha tradito mandandolo in nomination. A quel punto è intervenuta anche Oriana Marzoli, che aveva avuto un litigio con Vilma prima della puntata, dicendo «Ho dovuto risponderle in maniera proprio brutta, cioè ho dovuto urlare, stava sbagliando e dopo è venuta a chiedermi scusa. Ce l'aveva con me, ma non era colpa mia». E infine Charlie ha confermato anche la sua volontà di nominarlo per, diciamo, non vederlo tanto soffrire. Ecco, quindi una mano che gli stava dando. Staremo a vedere se ci saranno margini per una ricucitura dei rapporti tra Attilio Romita e Vilma Goic, ma nel frattempo, se cercate nel web, potrete ancora trovare il video, quello inerente e il battibecco avuto tra i due, e anche le affermazioni di Charlie Gnocchi e dell'altra concorrente, Oriana Marzoli. Questo è tutto, signori, per questo aggiornamento. Io vi ringrazio per l'ascolto, noi ci sentiremo alla prossima. Come sempre, se non siete iscritti, iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina.